Siamo qui con il mister Inburgia al termine della partita persa contro la Vergiatese per 3-0. Mister, tanti volti nuovi in campo, passando dal portiere all'attaccante, più tanti giovani, tanti juniores. Come hai visto questa partita? Ho visto una partita, come hai detto tu, con tanti ingressi nuovi, praticamente non ci siamo neanche allenati con questi ragazzi nuovi. Siamo subito entrati in campo non avendo mai provato nulla, quindi diciamo che oggi era più che altro una prestazione di rimetterci quel qualcosa in più, soprattutto su quelli che sono rimasti. Ci aspettavamo una prestazione un po' più di cattiveria, diciamo così, la potevi perdere perché dopo un turbolento periodo che c'è stato ci stava anche perdere. Però mi aspettavo qualcosa un po' più di cattiveria a livello di agonismo. Adesso in settimana abbiamo sentito Michele, Scavo, si lavorerà per arrivare già da domenica prossima a fare il risultato? Si lavorerà per arrivare il risultato? Quello sicuramente perché dobbiamo veramente fare un balzo, salire questa classifica perché veramente siamo mai ultimi solitari. vediamo anche in queste due situazioni di mercato, dobbiamo riuscire ancora a fare due o tre ritocchi e vediamo se poi riusciamo anche a lavorare un lungo rispettamente. Grazie, Ministro.